Questo è stato annunciato dall'agenzia spaziale russa Roscosmos. La sonda, prima lanciata dalla Russia sulla Luna dal 1976, si è schiantata a seguito di un incidente durante una manovra prima che la sua ala inizialmente. Prevista per domani annunciasse Roscosmos Space Agency. Secondo i risultati preliminari del sondaggio. Il dispositivo ha cessato di esistere a seguito di una collisione con la lunare superficie. Aggiunto Roscosmos.